Io questa cosa voglio starne il più fuori possibile, nel senso che se tu mi chiedi qualcosa e io so, te la dico senza problemi come hai visto perché sono dati di fatto, non ho appunto problemi a darti informazioni veritiere. Non saprei la m***a con chi ha parlato perché come ti ho detto prima non la sento veramente da tantissimo m***a, ci lo vedo, ma non parliamo di queste cose perché appunto non mi va di attaccarmi a questa vicenda e quindi non so darti una risposta su questo, non so che dirti. Allora, ci vuole spiegare che cosa le ha detto? Sì, praticamente... Alziamo il volume per cortesia dell'audio? Prego. Quando è uscita la denuncia della ragazza di Ibiza, io avevo un dubbio se quella ragazza... Quindi ricapitoliamo, violenza a Milano, altra ragazza di Ibiza, diversa ovviamente, fa un'altra denuncia. A me è venuto un dubbio, non mi ricordavo perché la ragazza in questione aveva cancellato tutti i video e le foto, il profilo addirittura, e io avevo dei video del giorno dopo la presunta violenza. Non mi ricordavo però se ci fosse effettivamente lei in questo beach club e io scrivo alla ragazza qui dell'audio, che è l'assistita dell'avvocato Chiesa. Volevo chiedervi una cosa, avvocato Chiesa, ma lei sa che le sue assistite hanno un manager? Io mi chiedo come possano delle ragazze vittime di violenza che vengono, oltre ad avere un avvocato, che hanno anche un manager? Allora, scusi... Non possono avere un manager? Un manager che chiede soldi per delle interviste e poi dice che per privacy non possono dire nel luogo della violenza... Allora, scusate un attimo, cerchiamo di dare ordine alle cose... Allora, scusi avvocato, non mi risponda a questa domanda, risponde dopo. Io voglio stare sul fatto che dice questa ragazza, che cosa le dice in questo... No, però le piccole informazioni, queste ragazze non conosciamo l'identità, non le dice neanche l'avvocato Chiesa e adesso sono accusate di dare spettacolo. Vabbè, ma dopo parliamo di questo punto che se però permette un punto... Ma io lo saprò meglio di lei, ok? Ma io lo saprò meglio di lei, è violenza verbale, mi sta parlando di lei. Un attimo solo, ci atteniamo prima al messaggio, avvocato Chiesa, prego, cosa le dice in questo messaggio? Mi dice, sì assolutamente Mari, la ragazza di Ibiza era con me al Beach Club, era con tutti noi e poi mi dice, guarda Mari, mi dispiace tantissimo per tutto questo casino che state subendo, è quello che abbiamo sentito, quindi lei prendeva le distanze. Io mi chiedo se... Scusi, per essere molto chiari, perché a casa devono capire. Lei si scambia questo messaggio con questa ragazza che poi scopriremo, sentiamo se davvero è la ragazza assistita all'avvocato Chiesa, la quale prende un po' in un certo senso le distanze da questa ragazza che ha denunciato Genovese. Sì, sì. Apparentemente, poi allora scusi, è la stessa ragazza però sarebbe, dopo alcuni giorni va e denuncia anche lei. E anche un'altra. E com'è possibile? Avvocato Chiesa, sentiamo, avvocato Chiesa. Però la...